Non ne voglio sapere di DPCM, sappi che questo locale non lo chiuderò mai. Ascolta Conte! Dimmi come riesci a dormire e dimmi dove li trovo i soldi per l'affitto! Affitto! 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 Per l'affitto! Affitto! 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 Per l'affitto! Affitto! Tu! Cosa qui mi farà prendere una multa? Tu! Sai cosa fanno gli hotel per campar? Ah! Ti regalano una camera solo per farti mangiare! Già! Hey! Tu! Dimmi come fai a dormire! Io lo devo dire! Dimmi! Con che soldi pagherò! Tu! Dimmi! Dimmi! Cosa faresti tu? Sì tu! Io tengo aperto e a Conte non penso più! Yeah! Yeah! Terra aperto! Terra aperto! In questo modo avrò dei soldi! Per l'affitto! Affitto! 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 Per l'affitto! Affitto! 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 Per l'affitto! Hey! Sai cosa mi pulisco con gli PCM? Ciao! Ciao!